Dai, dai, pesce fresco di qua. Allora, signora, scusami, posso dare? Signora, ci sono questi qua a 15, a 10 e a 5. E' belli però, eh? Poi ci abbiamo questo qua, guarda un po'. Signora, guarda cosa c'è stato, con gli occhi celesti ce l'abbiamo, guarda un po'. Bello, al porno questo qua. E' una bamba quella che ci abbiamo. Pesce fresco, dai! Vive! E' di scoglio, di scoglio! Dai, dai, pesce vive! Anche un po' di scoglio ci abbiamo, dai, venitemi a trovare! Vi aspetto!